Allora abbiamo tante cose oggi, passiamo subito agli ospiti di questa puntata con il portiere del Genoa, Alberto Frison! Bravo Alberto, grazie per essere qui. Allora vediamo la scheda di Alberto Frison, portiere del Genoa, sesto portiere del Genoa se non sbaglio. Allora, a nome Alberto, cognome Frison, squadra Genoa, possibilità che venga convocata per il mondiale le stesse disegnere gli occhi. Bene, sogno erotico ricorrente, circunnavigare in meno di un mese, il seno di Antonella Clerici. Molto bene, prossimo ospite, Mario Cassano! Ciao Mario, con le cianide sono per te, Mario Cassano. È un graditissimo ritorno, un grande, vediamo la scheda di Mario, nome è Mario, cognome Cassano, squadra Sampdoria, ha ricoverato in clinica per sesso dipendenza, sono due anni che entra e esce, altre perversioni, gli è piaciuta la canzone di Pupo e di Emanuele Filiberto, molto bene. E allora, il nostro opinionista con i capelli indefiniti, il nostro grande Paolino Travezzani! Grazie per essere tu, grazie di esistere Genoa. Grazie a te, vediamo la scheda di Paolino Travezzani, vediamo, nome Paolino, Paolo, cognome Travezzani, fan su Facebook, 948, persone che ha pagato per diventare i suoi fan su Facebook, 948, molto bene. Giorgio, tanto nel quale somiglia, bimbi, va bene. Un incantevole ragazze.